E' partita la procedura per l'avvio di una new co a partecipazione pubblica per la costruzione dell'impianto DRI a Taranto naturale presupposto per il forno elettrico, una tra le importanti novità emerse alla Camera nel corso dell'audizione del ministro Giancarlo Giorgetti, titolare dello sviluppo economico che ha incentrato la sua attenzione sull'ex silva di Taranto, oggi acciaierie d'Italia, affrontando i temi della siderurgia da forno elettrico molto presente al nord Italia, il ministro ha detto che non c'è rottame, il rottame viene esportato e soprattutto ci sarà una carenza di questo sempre più intensa perché si va verso l'elettrificazione del processo in tutta Europa, inevitabile dunque l'incrementarsi del prezzo del rottame, bisogna interrogarsi, osserve il ministro, già sull'import e l'export.